A parole ma anche con un cartello affisso questa mattina, i residenti della zona del Ponte Mimmo alla Trave di Fano hanno ringraziato l'assessore Barbara Brunori e Aset per aver dato una risposta all'esigenza di un'adeguata illuminazione pubblica. Infatti la famiglia Carboni, nota anche per aver portato avanti le battaglie a favore del ponte, come mostrano queste foto d'epoca, chiedeva da tempo un nuovo punto luce e finalmente nei giorni scorsi la richiesta è stata soddisfatta. Assessore avete dato un'importante risposta a questi residenti dopo le richieste che hanno avanzato per anni? Sì, richieste avanzate per anni e questo è proprio il tipico esempio di un dettaglio che fa la differenza perché parliamo di un semplice punto luce ma installato nel punto giusto riqualifica quella che è la vivibilità ma soprattutto la sicurezza delle persone che ci vivono e anche i ragazzi che magari in tardo orario rientravano a casa e invece in questo luogo proprio non c'era illuminazione. È chiaro che io sono grata a chi me l'ha segnalato perché in questo caso Sergio Carboni lo cito proprio perché è stato quello che con me mi ha accompagnato in questo percorso che sono mesi che perseguiamo perché essendo di pertinenza il bacino fluviale della regione abbiamo dovuto sottoporre una richiesta innanzitutto alla regione che in tutta la prassi ha tardato un po' però finalmente oggi è arrivata e luce fu. Per migliorare tra l'altro questo via Frusaglia perché naturalmente qui parliamo di un tratto che è abbastanza lungo ho interdetto anche 5 punti luci del circuito Marconi che di solito alle 11 della sera vengono spenti invece li ho lasciati accesi sino alle 6 della mattina proprio per favorire questo percorso di sicurezza che è iniziato e deve avere anche come dire un'estensione sino alla fine della via. Grazie Grazie Grazie